Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela questo è il loro scopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno, prima di iniziare approfitto per fare gli auguri a tutti i gemelli che compiranno proprio gli anni in questa settimana tanti tantissimi auguri, prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica e per avere qualche informazione in più potete andare a guardare il vostro ascendente se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi che utilizzo, nella lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli sempre in descrizione trovate il link per andare a conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana inoltre trovate il link anche per prenotare un consulta e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale e adesso andiamo a scoprire che cosa vi vogliono dire in primis quando questo taglio a volte danno un'indicazione sulla settimana, un messaggio, qualcosa che dovete assolutamente sapere qui si tratta di tramite il diario di ricerca, di studio, di valutazione e osservazione soprattutto per andare a risolvere un qualcosa di importante possono essere rivelati dei segreti, può saltar fuori effettivamente un qualcosa di importante e interessante per voi per altri magari si devono sciogliere dei dubbi, delle incertezze quindi avrete bisogno proprio di andare a scavare a scandagliare sia contattare, conoscere, verificare quindi qualsiasi cosa giungerà a voi oppure sarete voi magari a cercarla approfondite, cercate il più possibile di conoscere in tutto ciò arriva qualcosa di particolare può essere qualcosa legato alla vostra ricerca, al vostro muovervi altrimenti potrebbe essere proprio qualcosa che arriva così all'improvviso che non vi aspettate magari finalmente di ottenere una soddisfazione, una ricompensa far un buon affare a livello lavorativo ed economico tendenzialmente una carta di fiducia, di speranza, di nuove possibilità che si aprono di ottenere appunto soddisfazioni, vittorie e sorprese e allora quindi vediamo queste sono le informazioni principali vediamo adesso proprio le vostre energie si vede proprio una fase di evoluzione, di crescita potrebbe subire un po' dei rallentamenti in questo periodo, in questa settimana forse per delle motivazioni abbastanza importanti e quindi potreste sentirvi un po' scarichi a livello di energia però si procede pian pianino magari il fatto che sia uscita questa carta fate attenzione a non caricarvi troppo a stressarvi si vede un miglioramento è vero, quindi questo è positivo si vede anche questa bella carta di cambiamento e di qualche novità in arrivo possono essere delle notizie può essere partenza, ritorno quindi viaggio, spostamento in genere magari dipende appunto anche dal tipo di lavoro o che cosa fate se state programmando un viaggio una gita, qualcosa di particolare ecco allora probabilmente ci sarà qualcosa di questo tipo a volte può trattarsi anche di nuovi incontri che possono essere interessanti ovviamente dipende dall'ambito specifico perché può riguardare l'amore, l'amicizia può riguardare anche qualcosa a livello pratico se state cercando appunto di migliorare qualcosa in ambito lavorativo o finanziario quindi dipende di che tipo di nuovo incontro di novità avete bisogno questa potrebbe essere appunto una persona che vi aiuta tendenzialmente ok uscita la donna può essere una donna questo è vero però riguarda principalmente un'energia generale quindi non legata al sesso potrebbe aiutarvi potreste essere anche voi in questa energia cioè di essere aperti cercare di sfruttare la vostra intelligenza la vostra saggezza le vostre conoscenze i segni di attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria gemelli bilancia e acquario abbiamo anche un po' quelli di acqua cancro scorpione e pesci e adesso andiamo a vedere cosa voglio dirvi l'ambito amore per chi è in coppia poi vedremo single e ill lavoro troviamo malinconia che può riferirsi a un po' di pesantezza e di stanchezza in genere a volte può essere anche legato a qualche episodio in particolare magari appunto sapendo che ci possono essere delle discussioni e dei litigi potreste anche già intercettare e capire quale potrebbe essere la motivazione e quindi cercare subito di non farla accadere a volte appunto le carte possono consigliare proprio per mantenere il rapporto nel modo giusto perché si vede anche da malinconia dispiacere e mercante cioè la possibilità di riuscire a migliorare alcuni aspetti il mercante è vero che è una carta un po' particolare perché può magari farvi capire che possibili litigi e discussioni possono riferirsi soprattutto a questioni economiche lavorative o gestione a livello finanziario della famiglia stessa e della casa quindi ecco qui possiamo trovare già qualcosa di importante oppure può riguardare una persona nello specifico quindi non voi direttamente ma un familiare una persona che in qualche modo vi potrebbe procurare qualche dispiacere qualcosa che non va vediamo cos'altro vi vogliono dire per sempre l'ambito amore per chi è single abbiamo prigione, gran consolazione e amica il fatto che ci sia qui la prigione direi che è positivo perché qualcosa va a sbloccarsi quindi ci saranno magari dei momenti in cui vi sentirete forse un po' imprigionati però tendenzialmente questa carta che è vero lo ammetto non è tanto positiva può riguardare un momento di preoccupazione ma più che altro di non soddisfazione nell'ambito affettivo e perché potrebbe esserci perché magari c'è un'interruzione di una frequentazione magari state conoscendo qualcuno o vi state sentendo con qualcuno tramite messaggi, telefono eccetera e c'è una specie di interruzione però qualcosa dovrebbe riprendersi e migliorare quindi pensate voi attentamente se state frequentando qualcuno e questa interruzione questa altalenanza di atteggiamenti si ripete in questa formula in questo modo magari potreste cercare di capire che cosa e come procedere successivamente altrimenti se è un qualcosa di nuovo magari ci sono problematiche cose di vario tipo e che vanno a provocare questa momentanea interruzione se non c'è proprio nessuno qui si vede comunque un nuovo passaggio nel senso qualcosa che va a sbloccarsi a migliorare la vostra vita sentimentale nel senso di partire proprio da una nuova conoscenza magari che vi verrà presentata da una persona amica da qualcuno che conoscete oppure di trovarvi in qualche circostanza nello specifico e appunto ci sarà questa nuova conoscenza o conoscenza che non è tanto nuova però magari l'avevate già vista in passato e però risulta nuova perché a volte ci si perde di vista e ci si rivede dopo un tot di tempo vediamo cos'altro vogliono dirvi per le questioni più pratiche abbiamo sponsoriche a che fare con benefici e soddisfazioni ma possibilità anche di cambiamenti importanti nella propria vita lavorativa quindi dipende qui se le cose procedono abbastanza bene potrebbe esserci solo qualche dispiacere legato al vostro tipo di lavoro al vostro ambiente o a qualcuno nello specifico questo sì però si vede che voi continuate e procedete in questo modo se questa carta riguarda più che altro altre situazioni della vostra vita materiale cioè nuovi progetti cercare di realizzare qualcosa di importante a livello personale magari come arricchire le vostre competenze come qualcosa che riguarda magari anche il miglioramento del vostro contratto delle vostre condizioni lavorative ecco qui c'è un passaggio un qualcosa che va ad evolvere questo è vero però potrebbe non essere ancora la volta decisiva quindi loro vi consigliano di insistere o quantomeno di affidarvi a gente competente gente di fiducia che vi può aiutare e questo vale anche se dovete fare degli investimenti se dovete cercare lavoro o magari anche addirittura se lo volete cambiare ecco pian pianino qui si devono trovare nuovi accordi, nuovi appoggi magari anche fare colloqui incontrarvi, insomma parlare ed espandere le vostre conoscenze proprio per cercare di superare questo momento e cercare di andare appunto verso la strada che desiderate percorrere si conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale alla prossima vi auguro una buona settimana ciao